Avrebbe dovuto fare un altro lavoro? Sì, mi hanno detto che teoricamente avrei avuto i tempi comici, ma è meglio che ho fatto il batterista, sono contento di quello che ho fatto. Spazio Scenico, puntata numero 449. Bene. Avrebbe dovuto fare un altro lavoro anziché il batterista. Sì, mi hanno detto ma perché non hai fatto teatro, non hai fatto il comico? A me piace fare il comico facendo il batterista. Ma il protagonista di oggi chi è? Nel senso io. Chi sei? Io sono un Gian Paolo Ascolese, buongiorno a tutti, a tutte, o buonasera, e sono un batterista, percussionista che orbita nel campo della musica da, adesso sono 50 anni, sono 50 anni, sì. Gian Paolo, quanti anni hai? 64. Non si direbbe. Grazie, ci siamo messi d'accordo prima. Ho fatto un piccolo video quando ho composto 64 anni a settembre, ho fatto When I'm 64, col vibrafono, assieme a un mio amico trombettista, perché insomma è un grande brano dei Beatles, When I'm 64. Gian Paolo, tu sei un batterista. Batterista percussionista. Percussionista. Anche sì. E specializzato in un particolare genere della musica. Il jazz. Il jazz. Il jazz, che è una musica che a me piace molto, però è una musica molto elitaria, bisogna ammetterlo, è una musica che non piace a tutti, perché è una musica che presume una grande tecnica, una grande conoscenza dello strumento e molte volte questa cosa fa un po' allontanare il pubblico. Allora, quando nasce il jazz? Il jazz nasce attorno alla fine del 1800, a New Orleans. Vedi che rispondo... Sei preparato? No, sì. Diciamo attorno ed è una commissione di tre culture completamente diverse, che sono la cultura europea, la cultura afroamericana e la cultura caraibica, stanno tutte quante a New Orleans, a Congo Square e succede questa cosa meravigliosa, che è la musica, diciamo, attuale di oggi, con tutto rispetto per la musica colta, che è considerata la musica classica, che è tutto un altro approccio alla musica. Tu quando diventi batterista jazz? Io divento batterista jazz, siccome ho un fratello chitarrista più grande di me, che... Di quanto più grande? Due anni. Due anni. E' chitarrista di Fabrizio De Andrè, Michele Ascolese, ha suonato con tutti, ha suonato 15 anni con Fabrizio De Andrè, lui è il vero artista della famiglia, molto più famoso di me. E comunque gli regalarono una chitarra e allora, senza farmi vedere da lui, ogni tanto andavo a strimpellarla anche io e lui mi ha detto no, due chitarristi sono troppi, suona la batteria. Ah, quindi te l'ha imposto tuo fratello? L'ha imposto mio fratello, io mi sono messo a suonare con i binari del trenino elettrico che avevo su uno scatolone e mi sono messo a accompagnare lui che faceva le strimpellate. Lui strimpellava e io avevo quanti anni? Beh, sette e io cinque. E tu cinque? No, poi andai a sentire, mio padre mi portò a sentire Renato Carosone, sempre attorno un po' più, un po' più avanti, a Napoli, vivevamo a Napoli. E rimasi folgorato da Gegé Di Giacomo, batterista. Poi sai quelle cose che poi alla fine uno, sono tornato a casa, ho cominciato a suonare sulle pentole di mamma. Esatto. E' andata così comunque, è andata così. E l'emozione che ti dà suonare la batteria, fare il percussionista, qual è l'emozione che ti dà? L'emozione che mi dà è che riesco a esprimere tutte le cose contorte che ho dentro, contorte nel senso che io non riesco a esprimere bene le cose, gli argomenti, tutti i concetti che ho dentro, non sono un oratore e allora sulla batteria riesco. E ultimamente riesco a esprimerle anche con il vibrafono, che è uno strumento a percussione che sto suonando parecchio in questi ultimi anni. Quali sono gli strumenti del jazz? Gli strumenti del jazz sono principalmente la batteria, poi il pianoforte, la tromba, il sassofono contralto, il sassofono tenore, la chitarra, il contrabbasso e poi ci sono vari, il vibrafono, però il vibrafono adesso è un po' in discesa, è stato uno strumento tipico del jazz negli anni 50-60. Poi ci sono, qualsiasi strumento può essere uno strumento jazzistico, però quelli che ti ho citato io sono gli strumenti che hanno fatto proprio la storia del jazz. Tu conosci anche... Scusami, trombone. Trombone, ecco. Tu conosci, ti sei anche recimentato nello studio di questi altri strumenti o ti sei soffermato soprattutto sulle percussioni? Ho fatto gli studi, diciamo, regolari, in conservatorio, ho fatto dieci anni di percussione e percussioni, strumenti a percussioni, devi fare uno studio di pianoforte, devi fare un esame complementare di pianoforte, quindi un po' il piano lo suono e poi devi assolutamente suonare vibrafono, marimba e quelli li suono tuttora. Un po' la chitarra la suono, non visto da mio fratello quando... diciamo che anche un po' questi strumenti. Poi ogni tanto canto, lasciamo stare? Lasciamo stare. Lasciamo stare. Allora, visto che lasciamo stare, facciamo vedere ai nostri telespettatori un'immagine di tanti, 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 tanti capelli fa. Prego, ecco, di tanti capelli fa. Eccola lì. Giampaolo, che c'è sotto quei capelli? C'è sotto, dunque, quella è 1971 ed era al Palasport a Roma, era una manifestazione politica, diciamo che... Bellissima questa immagine. Prego, la regia di rimandarla perché è davvero bella. Sì, quel periodo c'erano le manifestazioni, diciamo che la sinistra organizzava delle manifestazioni assieme agli intillimani, c'erano gli intillimani, c'erano tutti i gruppi folcloristici del periodo e c'eravamo noi con Tommaso Vittorini, Mario Schiano. Noi chi? Eravamo io, Tommaso Vittorini, Maurizio Gianmarco, Mario Schiano, era Mario Schiano il nostro vado, la nostra guida. Mario è stato un grandissimo musicista di musica creativa. Ecco qui delle altre immagini. Ecco lì là. Quindi Giancarlo Maurino, Gaetano Delfini, Mario Schiano è quello col cappello e c'era credo Peppe Caporello al basso, che non si vede. E tu sei alla batteria lì in fondo. Sono alla batteria con i capelli. Con i capelli. Senza capelli come si suona? Di più, di meno? Ma guarda, io senza capelli tu mi puoi capire perché tu li hai i capelli, però mi puoi capire lo stesso. L'estate è la nostra rivincita, no? Ah sì, è vero. E allora noi quello dobbiamo pensare all'estate. Anche d'inverno devo dire, perché d'inverno noi ci laviamo i capelli e poi ci lascio. No, ma d'estate quando fa caldo metti la testa sotto il rubinetto. Ah, non c'è dubbio. Vuoi mettere, vuoi mettere. Loro non sanno a cosa si perdono. Le nostre comodità. Un'altra bella immagine. Quello è quando siamo stati invitati con il quintetto jazz di Roma, con Sergio Coppotelli, Antonello Vannucchi, Beppe Carrieri e Massimo Morigoni. Siamo stati invitati a Domenica Inn, che c'era una delle prime puntate di Domenica Inn, quella con i fagioli, che bisognava indovinare quanti fagioli c'erano dentro il barattolo di Raffaele, 1985. Ma tu non eri chiamato a fare il quiz, o sì? No, no, noi eravamo ospiti musicali. Ospiti musicali. Anche perché tre quarti di quella band lavoravano nell'orchestra stabile della Rai, e quindi era più facile essere invitati a trasmissioni in Rai, diciamo. Vediamo qualche altra immagine. Quindi siamo sempre noi. Con Raffaella. Con Raffaella Carrà, Beppe Carrieri, Sergio Coppotelli, Antonello Vannucchi, Massimo Morigoni e me. Questa è una trasmissione dell'86 che si chiamava I mixerabili a Blitz. Era nel contenitore di Blitz, di Minoli, ed era una trasmissione surreale, fatta da Susie Bledi e il suo marito. Adesso non mi ricordo che due autori che poi hanno fatto Turisti per caso. Ed era molto avanti con i tempi, perché poi sono stati lanciati in questa trasmissione un sacco di comici abbastanza illustri, che dopo hanno continuato. Un'altra immagine? Questo è con Barney Kessel, il grandissimo chitarrista che ha fatto la storia del jazz, della chitarra. Anche abbastanza rara, perché Barney Kessel non andava tanto in giro a fare... È capitato in Italia, abbiamo fatto una serie di concerti con lui. Il personaggio strepitoso raccontava delle barzellette divertentissime. In quale lingua? In inglese, ma insomma, si faceva capire. Ah, ecco. Sì, no, beh, se suoni con loro devi conoscere la lingua. La conosci bene l'inglese? Mi facevo capire, loro si facevano capire, anche perché per forza la musica loro. Eh sì. Un'altra bella immagine. Oh, questo, non mi ricordo come si chiama, un sassofonista americano che non mi ricordo, il contrabassista è Pino Sallusti, è di Daniel, non me lo ricordo bene. Chiedo scusa, chiedo Venia, non me lo ricordo, ve lo dirò. Questo è Roland Anna, a destra, Massimo Moriconi al centro e Gianpaolo Ascolese a sinistra. Roland Anna è un personaggio veramente… questo è Mike Melillo, sempre con Massimo Moriconi e con Gianpaolo Ascolese con qualche capello ancora, all'Alexander Plazzi. Questo con il grande Chad Baker, la moglie, Mike Melillo, Massimo Moriconi, Paolo Piangerelli e due fotografi, non mi ricordo i nomi dei due fotografi, qui 87. Che belle immagini, veramente belle, belle. Certo. E questa con, diciamo, il mio ultimo gruppo, Isoritmo, Gerardo Iacucci, Elio Tatti, Rodolfo Rossi, Filiberto Padermini e quello al centro con i capelli sono io. Questo gruppo quando lo avete costituito? Ma questo gruppo è… diciamo che ancora in… questo è nel 90. Questo è un gruppo che abbiamo costituito io e Rodolfo Rossi perché ci siamo diplomati insieme in strumenti a percussioni nel 90. Facciamola rivedere un attimo. Sì, quella via, sì. E Rodolfo è quello… è il secondo da destra. Ci siamo diplomati insieme e abbiamo detto, ma visto che abbiamo studiato tutti questi strumenti, ma vogliamo fare un gruppo dedicato a questi strumenti? Infatti ci sono marimba, vibrafono, batteria, percussioni varie. Dove ti sei diplomato? All'Aquila. Ah, al Conservatorio dell'Aquila. Al Conservatorio dell'Aquila che purtroppo è caduto giù nel terremoto. Ah, certo, certo. Però esiste ancora ovviamente come conservatorio. C'è la parte… adesso l'hanno ricostruito, c'è tutta una parte nuova, ma io ho studiato nel convento del 1100, che era un posto meraviglioso. Bellissimo, sì, bellissimo. Bellissimo. È andato giù tutto. A quanti anni sei entrato al Conservatorio? Tardi perché io ho sempre suonato da giovane e poi a un certo punto sono andato in America nell'82, no, nell'80 sono andato in America a studiare alla Berkeley, per avere… ho detto devo studiare, devo farmi una formazione musicale, perché qua bisogna avere una formazione musicale, andai alla Berkeley, ma sono stato lì sei mesi, costava un sacco di soldi. Ho visto che bene o male potevo farmi una formazione musicale in Italia gratis, ho detto vabbè lo sai che ti dico, mi iscrivo in Conservatorio, mi sono iscritto tardi, c'avevo 25 anni, voglio dire 25 anni sono tanti per cominciare uno studio regolare, però insomma è andata bene, mi hanno fatto soltà i primi tre anni, poi sette anni me l'hanno fatti da tutti, strumenti in percussione sono dieci anni. E poi dopo mi sono preso il diploma triennio e biennio specialistico ancora più tardi di musica jazz. Lì hai conosciuto anche Sergio Prodico all'Aquila? Sì, era il mio direttore. Sergio Prodico era il mio direttore e mi ha fatto fare… è passato sopra a una domanda che io feci per fare l'esame di storia della musica, la feci in ritardo e lui me l'ha fatta… ci è passato sopra, me l'ha fatto fare lo stesso, l'esame di storia della musica, perché era appassionato di piccoli fans, io ero batterista di piccoli fans di Sandro Milo, perché lui aveva i figli che guardavano piccoli fans, mi diceva beh dai, sei batterista di piccoli fans, fai st'esame va, no perché lì sono… se non fai la domanda nei termini, l'esame non lo fai. Sergio è una persona straordinaria, un bel saluto a Sergio Prodico. Certo. Ciao Sergio. Ciao Sergio. E lui sì, era il direttore proprio in quel periodo là, certo, certo. Hai un bel ricordo quindi di quel periodo allora. Sì, ricordo meraviglioso, l'Aquila è una città stupenda. Adesso ci sono tornato perché abbiamo fatto dei concerti dedicati proprio al terremoto e sono andato a fare un giro, la stanno rimettendo su però che fatica. Con molta fatica sì. Giampaolo, chi volesse eseguire un tuo concerto prossimo? Sì, io adesso suonerò un concerto importante a cui tengo, è il 29 marzo alla Scuola Popolare di musica di Testaccio e presenterò il mio nuovo progetto dedicato a Art Blackie, il grande batterista dei Jazz Messengers. Andando avanti con l'età, invece di fare le cose più facili, faccio le cose più difficili. Art Blackie era una forza della natura. A 25 anni era già una forza della natura, speriamo bene, però mi piace tanto il 29 marzo. Il 29 marzo 2020, il Testaccio, che è un quartiere di Roma. Sì, alla Scuola di musica del Testaccio, al macro, all'ex mattatoio, adesso è diventato un museo e c'è una sala concerti lì. Ce ne sono altri? Poi a Latina il 13 marzo, ma lì suona il vibrafono. Quindi ancora prima del 29, il 13 marzo. Al Circolo Cittadino di Latina, un posto molto famoso per gli amanti del jazz della zona puntina. Hai ancora un altro concerto? No. Per chi volesse ascoltare le tue esibizioni? Per chi volesse ascoltare le mie esibizioni, io lo dico su Facebook, non so, lo dico su Facebook. Perfetto. Lo dico su Facebook, no, una cosa importante è che adesso il libro che voi molto gentilmente mi avete fatto fare, adesso uscirà in inglese. Ecco, parliamo un po' di questo libro. Il titolo di questo libro qual è? Tim e Tom viaggio attraverso la musica jazz. È un viaggio immaginario di due ragazzi che si ritrovano con una macchina del tempo in un garage, spingono un bottone e si ritrovano a New Orleans nel 1890. E non vi racconto altro perché ve lo dovete comprare. Sì, perché è veramente un bel libro. Piccolo, piccolo, quindi si legge rapidamente. Si legge in treno, due ore di treno e hai letto il libro. Ci sono i disegni di Marie-Hélène Levra, che è la mia compagna pittrice. Molto belli. Ci sono dei bei disegni e tra l'altro anche una bella lettera di Pupiavati che mi ha mandato con i complimenti di cui ho mandato il libro e mi ha mandato questa lettera di ringraziamento, una lettera che vi farò vedere. Adesso uscirà la traduzione in inglese e ho coinvolto un mio amico, bravissimo batterista che si chiama John Arnold, a farmi la traduzione. Ci vuole un batterista per fare una traduzione di un libro di un batterista. E quindi uscirà in inglese. Una particolarità della batteria jazz, qual è rispetto agli altri generi? È che la batteria jazz è uno strumento sia di accompagnamento che solistico. C'ha i tamburi essenziali e per esempio la gran cassa è considerata come un tamburo e non come tenere il tempo. Ecco, così, in linea di massima. È uno strumento solista. Benissimo Gianpaolo. Allora noi ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che Spazio Scenico va in onda tutti i giorni, tutti i giorni, dall'1 alle 2 del mattino, dalle 10 alle 11, dalle 19 alle 20, su Teleambiente Digitale Terrestre, Lazio, Canale 78, Milano, Canale 812. Gianpaolo, come dire, una percussione finale. Eh, la percussione finale... Grandissimo! E con questo si chiude la puntata di Spazio Scenico. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.